Sicuramente lo avrete già visto da qualche parte Probabilmente sui piedi di Kylian Mbappé oppure qui Fermi 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 tutti raga Un paio di settimane fa circa Piranha Films ci ha contattati Ci siamo andati un'email e ci ha chiesto Ragazzi necessitiamo di un wrap per la produzione di contenuti per Nike Football Avete sentito bene Nike Football raga In breve dovremo andare a replicare quelle che sono le Nike TN su un Ford Transit Quindi non appena è arrivato il rendering ufficiale Il nostro buon Ivan si è messo l'impegno a replicare tutta quella che era la grafica Quindi si parte con il progetto Come vedete alle mie spalle abbiamo diviso il mezzo a metà Ovvero la parte anteriore viola La parte posteriore nera Ovviamente questa parte ve l'abbiamo bypassata perché era un po' noniosa Ed una volta che la base sarà completata Quindi anche con portellone posteriore e tetto Andremo ad apporre il nero sul viola e il viola sul nero Ma poi lo capirete meglio Ah e poi ovviamente andremo a mettere anche i loghi Ovvero TN sul posteriore e lo swoosh su FH Quindi ora vi lascio con qualche bella cinematica Andremo a completare tutta la base E poi ci rivediamo domani per finire con le grafiche Nuovo giorno e come vi dicevo ieri abbiamo completato la base di tutto il mezzo Tetto compreso E partiamo proprio da una bella parasole Nike Air Mentre qui abbiamo già pronto il viola per la parte posteriore delle fiancate Ed il nero per la parte anteriore E poi andremo a concludere con gli swoosh sulle fiancate Quindi ancora qualche ora di lavoro e poi il mezzo sarà pronto per lo shooting Grazie a tutti E anche l'ultimo adesivo è stato stampato e posato Come avete visto dalle immagini siamo andati a replicare il logo TN sul posteriore del furgone E il baffettino qui sull'anteriore che tra le altre cose è stampato su rifrangente Perché sulle Nike TN è presente questo baffo argentato nella parte anteriore Che appunto è stato replicato anche sul cofano del mezzo Quindi anche questo progetto è terminato Speriamo che il video vi sia piaciuto anche se breve Commentate qui sotto se avete visto il video ufficiale di Nike Italia E raga con questa silhouette di scarpa su furgone alle mie spalle Vi direi che ci vediamo al prossimo video Ah e piccolo spoiler raga corri su Instagram perché è uscito un reel davvero interessante Ciao! 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 Ciao!